È in agguato d'estate tra l'erba alta, attende il passaggio dell'escursionista per attaccarlo e ingurgitare il suo sangue. È la zecca. Nel Veneto in pochi giorni ha colpito 18 persone tra il bellunese e il trevigiano, alcune finite all'ospedale con sintomi gravi di encefalite. Nel Vicentino è allerta. Siamo in un clima di attenzione anche se per il momento la maggior parte dei casi sono rilevabili nelle us montane, quindi Belluno e Treviso in particolare. E si raccomanda come prevenzione il vaccino che va fatto però in autunno. Prevenzione vuol dire anche usare le adeguate protezioni quando si va a camminare, quindi i calzari, i pantaloni lunghi e eventualmente anche del repellente sugli indumenti. Stare sempre al centro dei sentieri perché ricordiamo le zecche non camminano, ma stanno appollaiate sugli steli d'erba, sui cespogli. Tornati dall'escursione, il consiglio è di esaminare la cute per individuare l'insetto che va estratto con una pinzetta, con la puntura di zecca, non si scherza. Può portare anche alla morte? Beh, in qualche caso, perché purtroppo non c'è terapia per la encefalite, è una malattia virale, ma c'è una terapia di supporto. Grazie mille! Grazie a tutti.